L'educazione delle giovani generazioni, la sfida delle pari opportunità e il rapporto tra la scuola e le famiglie straniere saranno il filo conduttore della terza edizione del Dialogo Creativo. Gli incontri sono occasioni di confronto aperto tra persone di cultura, origini e religioni diverse presenti oggi a Pordenone. Quest'anno la rassegna inizia il 31 gennaio e arriverà fino al 28 marzo. Gli appuntamenti principali sono l'incontro del 31 gennaio con Eraldo Alfinati, uno scrittore ma soprattutto un insegnante e ci presenterà il suo ultimo libro Vita di Vita. Poi il 20 e il 21 febbraio ci spostiamo a Cinema Zero. Quest'anno c'è questa collaborazione importante, presenteremo il documentario Io sto con la sposa e racconta l'esperienza, un viaggio da Milano fino alla Svezia con dei profughi. Il 28 febbraio poi torniamo in Biblioteca Civica con un appuntamento sul rapporto scuola-famiglie straniere e poi il 28 marzo chiudiamo con un incontro sulle seconde generazioni e lo sport con il sociologo Mauro Valeri. Ci sarà poi un appuntamento extra in cucina a PN Box con la cucina marocchina. Questo come apertura il 29 gennaio. Un'edizione come le altre incentrata su quello che è il dialogo e la reciproca conoscenza soprattutto fra le giovani generazioni, quelle sia ovviamente di Pordenone che quelle derivanti da famiglie provenienti da altri paesi. Credo che la base della conoscenza e del dialogo sia un elemento per migliorare e contribuire a solidificare quello che è un rapporto tra cultura e territorio ma anche tra nuove realtà che si stanno via via consolidando qui da noi.